Volevo bene e bene e bene e bene con il vostro Adler 19 München 85 Marco Lazio Club Monaco dal cuore della Baviera, dal cuore di Monaco per tornare brevemente ci proverò su quello che è sulla partita di ieri e su quello che è stato il mio video di ieri iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale se vi sto simpatico o se vi sto antipatico se vi sto antipatico non vi dovete iscrivervi al canale ovviamente, però se vi sto simpatico se magari concordate o non concordate come su quello che dico, che è il canale, ma che vero cosa mi chiedo io diffondete il verbo e dite a tutti che in giro per la Baviera c'è un tizio chiamato Adler che va a sproloquiare sulla Lazio ragazzi, grazie per i commenti di ieri a quale buona parte sono riuscito a rispondere altri ragazzi, perdonate, non sono riuscito, sono stato in giro tutto il giorno sono tornato a casa una ventina di minuti fa quindi non so riuscire a stare così dietro al telefonino ma avete fatto notare in parecchi qui penso che sia un problema della mia comunicazione quindi ho trasmesso un messaggio evidentemente sbagliato a voi ho trasmesso un messaggio di ipercriticità nei confronti della Lazio quindi deve essere stato effettivamente un po' duro nei confronti della prestazione della Lazio di ieri e quasi aver trasmesso il messaggio che non mi sia interessata la vittoria o che comunque mi sia passata in sordina ripeto, è evidentemente un po' colpa mia un po' colpa delle circostanze che non sono riuscito a comunicare effettivamente la gioia che io avevo ieri perché ragazzi, quando la Lazio vince io sono sempre contento che se vinca una partita contro una squadra di serie B, di serie C che se vinca una amichevole che se vinca una partita di fine stagione che non conta più niente che se vinca qualsiasi cosa io sono sempre contento per me e per tutto il popolo la Laziale quindi io ieri ero contento della vittoria sulla Lazio e effettivamente andandomi a rivedere un pochino azioni salienti e riascoltando quello che ho detto nel video cosa che non faccio sempre cosa che dovrei fare più spesso evidentemente ma dando conto adesso è stato un pochino troppo duro perché la Lazio, secondo me, quell'atteggiamento che dicevo ieri un po' di sufficienza e demenefreghismo nella seconda parte del primo tempo probabilmente l'ha messo in campo ma forse era anche un po' tirare il fiato perché nei primi 20-25 minuti la Lazio era spesa tanto e quindi aveva bisogno di rifiatare nel secondo tempo la Lazio gioca effettivamente una partita migliore di come l'abbia ripinto ieri perché abbiamo messo sotto il Verona perché avremmo potuto vincere un risultato molto più ampio quindi se ieri la Lazio fosse entrata negli spogliatoi a fine secondo tempo un risultato di 3-0, 4-1, che cosa so io probabilmente ci sarebbe stata anche da parte meno una reazione diversa, non so però ecco, ammetto di aver espresso male questo mio giudizio oltretutto penso che anche il contesto abbia giocato un pochino a mio sfavore nel senso quando sto al pub che è appena fine la partita qualcuno mi ha anche fatto notare senza i due sei sette birette c'è una votazione diversa può essere pure, io non lo so però ecco, effettivamente il contesto tutto che carica anche un po' di più è diverso rispetto a quando stai da solo sul divano circondato da una persona a cui non interessa quasi niente della partita è diverso in più ieri il video dovevo fare su un balcone ai 11 di sera per non disturbare il vicinato ho anche cercato di mantenere un tono di voce così non volevo parlare troppo forte altrimenti avevi svegliato i vicini che avrebbero chiamato la polizzaia sarebbe stato un problema quindi probabilmente anche questo ha influito su quelle che sono state le mie impressioni della partita di ieri ciò nonostante io qualcosa di negativa l'ho vista cioè la Lazio ha giocato una buonissima partita ha fatto quello che doveva fare ha battuto una squadra che sta lottando per la salvezza e quindi ha obiettivi diversi dalla sua ma delle sbavature nel corso della partita ci sono state spesso venute dai singoli per esempio Isaksen che ieri forse dopo alcune partite in panchina ritrovarsi in campo per lui è stato difficoltoso non era concentrato abbastanza ha sbagliato un paio di stop ragazzi io me lo so guardare e dicevo lasciamo perdere il gol che nel primo tempo tu carcerai l'angolo quella è una palla fortuita quindi tu tiri a botta sicura ma sul portiere può succedere non era quello il motivo per cui Isaksen magari mi dà una critica però è stato un po' assente dal campo e ha sbagliato delle cose veramente elementari quindi su lui magari potremmo dire qualcosa lo stesso Casale se non ricordo male era Casale cioè no Casale è stato sostituito che cavolo dico perché Casale era ammonito se stava in nervosetto è stato sostituito non mi ricordo comunque chi nel finale di partita perde una palla veramente veramente shock non mi ricordo chi è adesso lo stavo a ripensare prima da dare il video ma non mi viene in mente perde una palla talmente sciocca che per poco non ci fa prendere un gol il novantesimo che avrebbe reso tutto amaro la Lazio continua a non fare gol tira di più ma continua a non segnare e forse perché davvero si arriva con un po' troppa sufficienza da sottoporta la palla che sbaglia Pedro ragazzi ci riprova adesso lo rifà domani lo rifà lo rifà però probabilmente non lo so forse non stava aspettando non so che dire ma la Lazio continua a non chiudere le partite e questo è una cosa negativa quindi ci sono tante cose positive la Lazio sta migliorando ci sono ancora delle cose negative ma penso che sia normale nell'economia di una partita che ci sia questo bilanciamento tra bene e male penso che ci possa stare a detto del fatto che io effettivamente ieri l'ho vista un po' troppo negativa forse l'ho vista un po' troppo negativa ragazzi perché questo imminente futuro in cui la Lazio andrà ricostruita sotto la guida spirituale e tecnica di tutor si avvicina sempre di più e io mi faccio sempre più domande io sono sempre più preoccupato di vedere quello che ci aspetta tra qualche mese perché ragazzi siamo a maggio un mese quattro giornate e il campionato è finito poi sono in altra fila stanno europei questo e quest'altro poi ricominci preparazioni calcio mercato eccetera eccetera e ci ritroviamo là e io purtroppo uno sguardo a questo futuro imminente già ce l'ho e me preoccupa mi preoccupa quindi può essere che anche quello abbia un pochino sfaldato quella che è che è la mia analisi della partita ragazzi io sono contento che la Lazio abbia vinto e penso che la Lazio abbia fatto una buona partita una buonissima partita non vi dico grande partita e chiudo il video facendo una cosa corretto alcuni di voi che mi hanno detto giocavamo una partita difficilissima no su quello non sono d'accordo perché per me una partita difficilissima è giocare contro l'Inter che sta ancora giocandosi lo scudetto quella è una partita difficilissima ieri è una partita complicata era una partita insidiosa era una partita con le sue difficoltà ma giocavamo in casa contro una squadra che sta lottando per non retrocedere e che ha obiettivi diametralmente diversi dai nostri in negativo quindi io mi aspetto che la Lazio all'Olimpico col Verona con tutto rispetto per Verona che è una squadra che secondo me appartiene di diritto alla Serie A però ecco una squadra che sta giocando per non retrocedere e noi stiamo giocando con la speranza di qualificarci in Europa magari chissà con un po' di fortuna anche nell'Europa che sarà l'Europa più importante continuo a ripetere che ho poche speranze ma siamo ancora all'incorsa quindi gli obiettivi sono diversi e di che era una partita difficilissima per me è una leggera esagerazione perché difficilissima non era partita complicata dalle mille insidie partita che andava probabilmente che andava sicuramente vinta e bisognava vincere perché il simbolo sulla schedina doveva essere uno e la Lazio l'ha fatto a netto delle insidie che poteva presentare il Verona ieri sera ragazzi se ho detto un'altra volta fregnasce fatemelo notare perché mi fa piacere discuterne con voi e ricordate che non è importante dove voi siate perché la cosa più importante è sempre e solo forza Lazio ragazzi